comincia a muovere qui comincia a muovere qui non vede, non vede bravo, così di nuovo per il trattamento della piaccia sì, insomma, voglio dire che è sempre di vedere come fare un paletto non si sono aspettatori o aspettatori che sono stagliati da quello che sta mi fa pensare che forse anche il fatto di essere La quarta edizione è in un certo corso che è fatto in una forma di educazione, perché magari qualcuno che l'ha visto prima di una volta, magari è curioso di una volta, magari è un tempo che è entrato in palestra, è trovato lo stesso. Sì, 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 questa è sicuramente la situazione giusta. Lascialo qua! Gli altri marziali ormai sono invitati a uno spot abbastanza usuale, credo che pochissime di queste persone che stasera almeno una volta o almeno un metro hanno trovato un corso di altri marziali, quindi diciamo un po' più di quanti conoscono questo mondo. A te avete ancora seconda ripresa, un altro nodo di pausa tra... I due sono di terza categoria, quindi sono abbastanza lineari, abbastanza, sono sui cinque, sei incontro a testa. E tra due per l'intervata a testa, i due per l'impresa, e questi sono a testa che hanno su un po' più qualche pubblico di un numero di nata, che posso dire lo stesso. Hanno una po' più fetta diversa, hanno un po' di colpire, di ruotire diverso. Oh, è arrivato a tre anni, lo vado a questo sentito. Oh calma, Chirico, oh calma, chiedono lì, chiedono lì. La paratibbia, oh la paratibbia ce l'ho spostata. Molta mobilità sul trucco, molta mobilità sulle gambe e anche molta elasticità di partire. Molta mobilità sulle gambe, certo, 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 infatti la paratibbia ce l'ho spostata, troppo un aspetto, probabilmente c'è bisogno di elasticità. Se bisogno di elasticità, movimento sul tronco, se rimani fermo sul tronco, se rimani troppo esteso, quello altro diventa un versaglio fisso. Insomma, e può diventare anche pericologa, ti puoi cacciare un colpo e ti puoi mettere giù, insomma, perché con il fronte così dritto, il fronte è positivo. Sulle mani. Ok, io chiedo comunque il tifo da parte del pubblico di Cameron Guns, ma che ti faccio a pensare che serve sempre. Adesso, adesso. Ed eccola qui il gong che va a chiudere questa terza ed ultima ripresa davvero notevolissima, davvero notevolissima. il parattivo e il sinistro girato io vedo che siete ancora tanti attenti e questo non può che fare il piacere il saluto tra gli atleti ok, vengono consegnati allora l'onore di poter leggere il verdetto allora per 3 del 20 a 0 vince Zanico Angola Rosso bravo Gris un applauso, molto molto grande allora, prima, cominciamo